In occasione dei festeggiamenti per San Vito il Santo Patrono di Mazzara del Vallo di quest'anno l'Associazione Culturale Il Canto del Marrobbio insieme al Comune di Mazzara del Vallo mi hanno invitato a allestire, a curare questa mostra fotografica che tratta la cultura devozionale nella tradizione popolare di Mazzara del Vallo e in più ho voluto coinvolgere alcuni fotografi di talento del territorio che si occupano di fotografia di paesaggio e che mi hanno aiutato ad allestire questo spazio che sarà fruibile dal 23 di agosto fino a domenica 27 presso l'atrio del seminario Pescoviglia di Mazzara del Vallo